Anzi la regia internazionale si sposta sulla britannica Gadirova, anche lei è in corsa per una medaglia, Jessica Gadirova che tra l'altro è l'ultima a gareggiare. Rondata a prefac, doppio avvitamento, abbiamo visto finalmente un volteggio più alto di difficoltà, Urchenko teso con doppio avvitamento, bene, contenta sia la ginnasta che l'allenatore, vediamo l'esecuzione tecnica dal momento del contatto, divarica leggermente le gambe nella prima fase e poi bene il secondo volo e un passo indietro.